E' un dolore vero, umano, per me, diciamo che perché colpisce più questioni, anche un po' l'emozione, anche un po' perici, anche questa. E poi la questione politica, perché lui da Peneo ha rappresentato una fase importantissima e rappresenta tutt'oggi, perché l'area politica di Forza Italia è un'area politica reale, vivente e che realmente è qui. Quindi non è che si scioglie tutto. Forza Italia rimane dove è, rimane forte anche dei valori che il presidente Berlusconi ha saputo tracciare fin da subito. Quindi per noi è un dolore vero, un dolore umano, un dolore che io proprio stamani ho pianto, e che è normale, penso che sia così. Al tempo stesso però è anche il fatto che oggi dobbiamo dimostrare tutti di essere maturi e ringraziando di quello che ci ha dato, proprio perché sappiamo di avere comunque un bagaglio di valori, di esperienza, anche di capacità, che intendiamo portare nel futuro. Questo è il nostro lavoro di oggi. Un grandissimo comunicatore che ha innovato anche il modo con cui voi politici vi dovete poi rivolgere al pubblico. Assolutamente, assolutamente. Lui ha sempre dato giustamente i consigli di come relazionarsi per esempio con i media, come esprimere un messaggio in modo efficace, evitare inutili verbosità e andare dritti all'obiettivo. Non tanto perché lo riduceva in maniera banale, ma perché realmente dovevi essere comprensibile. Il messaggio lui l'ha sempre dato chiaro, ha sempre cercato di trasmettere quello che voleva in modo comprensibile. Questo è il segreto grande, oltre che alle idee, anche la capacità di esprimerlo. Questo è un po' un altro segmento di Berlusconi che fa parte di tutti noi, a prescindere da che esteramento uno si trovi. Berlusconi ha innovato, ha modificato completamente l'approccio con i media, ma non tanto con gli aspetti giornalistici. Proprio nell'uscita e ultimamente proprio la questione di TikTok. TikTok lo hanno preso in giro in maniera incredibile, ma realmente ha vinto lui. Ha vinto lui perché su TikTok ha fatto non mi ricordo quanti milioni di follower, ha spostato elettoralmente perché è riuscito ad arrivare a un elettorato che non sarebbe stato mai raggiunto. Ha avuto anche lì, pur a 86 anni con difficoltà fisiche, l'intuizione. Era un genio, un genio assoluto. Lo riconosciamo, lo dobbiamo riconoscere un po' tutti. Fa parte, è un patrimonio dell'Italia Berlusconi. Oggi davvero è questo. Oggi lo piangiamo perché non c'è più, ma lo dobbiamo valorizzare perché quello che lui ha lasciato è totalmente attuale. E quindi credo che Berlusconi lo dobbiamo ringraziare e oggi salutare con affetto e con vera stima.